Allora, visto che non ti posso chiedere cos'è che hai fatto di bello oggi Sì! 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 Cosa ce l'ho fatta? Scusa per il disagio, ma cosa farai di bello in questi giorni? Ci racconti qualcosa? Allora, giovedì parto per la Versilia, che ho l'inaugurazione della suite di un hotel, una suite della Madonna, di un hotel a Via Reggio Da quello che ho capito è che Rosso vuoi venire con me in una suite di hotel a Via Reggio Non l'ho sentito io, così ho detto che dobbiamo venire con te Ancora non lo conosco così bene Quanto sei alto? Boh, due metri e mezzo Guarda, esce pure fuori da... Guarda io quanto sono alto Capito? Guardami Minchia, ma dai! No, sono alto 1,95 circa No, dai, posso chiederevi seriamente? Sì, sì, sono alto 1,82 Guarda quanti alti lì, capito? Ma dai, non ci credo, alzati bene Guarda, se no mi metto in butta di piedi io Ok, sei pronta? Vabbè dai, seriamente, quanto siete alti? No, in serio, 1,93 1,82 1,93? Eh sì Io 1,93 Sei alto? Eh sì, sì, sì Ma dai, non ci credo Non c'è, guarda Guarda, guarda Bro, sei 1,43 sei Ma non è vero Ma non è vero No, no, sono altissimo A parte di scherzi Anche la chat Anche la chat può confermare No, ma a me non piacciono altissimi È 1,2 1,43 Sono 1,80 io Con i tacchi 1,93 Grazie mille a Andrea e Mariani Per la sub E' un attimo le sub Comunque Quanti li hai? Uh Sai quelle domande Che dicono Non si fanno giù una donna? Ma Fa un culo Scusami Partita No, scusami Taylor Scusami 19 da 10 anni Ok, quindi 24 Sì, bravo 24, devi porti bene Io avrei detto Massimo 22 23 Ma sai anch'io Comunque Comunque Questa roba Che tipo Ti arriva la Cioè Mette l'immagine Robert 28 Falla parla Falla parla Puoi rivedere che lui Ne ha 24 Dici? 24 Comunque Questa cosa Che tipo L'immagine Marrovetto Mi Mi banga No, sei bella in culo Grazie Prego, prego No, no Ci sta Ma Tu Mi conosci? Sì Allora Ho visto un po' di video tuoi Allora Su TikTok E Mi fai morire Non è ironia Veramente Ironia Sei pure Fregno Ma oggi C'hai dei capelli strani Oh, fra Fra Guarda che come Sì, no Anche Anche te ti ho visto Però Un po' su TikTok Mi sa Da qualche parte Fra Però non mi ricordavo il nome Di chi No, perché io c'ho una memoria di merda No, di lui Rosso Però Rosso Dico una cosa A te ha detto che sei bello A me ha detto ti ho visto e basta A te ha detto ti ho visto e sei bello Quindi Aspetta Avete la prova del 9 Vediamo un attimo Vado via Così, perché io mi incasino Tu conosci Ginza? No La canzone Ginza Oh, oddio, no Fammi il ritornello Ma perché ho una memoria, ti giuro Un difetto c'ho Uno e basta Allora È una cosa importante È della memoria È una cosa importante Aspetta, aspetta Attimo che prendo il cane Ciao Piacere Simone Ciao No, allora Lui Ti hai detto che sono un bel ragazzo Giusto? Sì Lui è Lui è l'amico di Fedez Cosa c'entra Fedez? Non so Niente E Se 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 Lascia lo stare È un po' scemo Se Ma dove state? A casa di Casa mia Casa mia Casa di Edoardo In quanto siete? Siamo Uno, due, tre Corgettina da quattro E ora arriva No, no, no Hai mai fatto un'orgia? Non si chiede Non si può dire No Ha voglia Con due Mi hai notato il team Scusa Io gli ho chiesto No, perché Ma io faccio Ho sempre giocato Le più grandi orge D'Italia Tu hai mai percepito All'orgia di Parigi No Tra io ho fatto Ho fatto Ho plurinanamente Per l'angelo di Parigi No No, quella di Parigi Spacca Perché non te l'aspetti Poi invece è molto molto E comunque Ti ho portato qui Il ragazzo più bello di Milano E tu appunto Visto che mi hai definito Un bel ragazzo Puoi scegliere Tra me e lui Posso dirti una cosa Però adesso stai In una posizione del cazzo Con dei capelli Metti un po' Così Ecco E hai detto che sei una busta di pisce No, sei una busta di pisce 184 Quindi ti immagino Quanto già No, mi giuro Mi preme sta domanda Non riesco ad avere una risposta sincera Dai, no Lui Aiuto Mamma mia Pensavo sulla tarantola Fra Fra Pensavo sulla tarantola Sarà due centimetri più basso di me Lui E tu quanto sei? 184 Serio? Sì No, sai perché? Perché secondo me sei alto Però Quante ne hai? 19 Non si chiede Non si chiede Ah, cazzo Allora, se becco una ragazza piccola Le chiedo l'età E faccio sesso Non si chiede Non si chiede per l'educazione Allora, ho fatto sesso con una dodicena Ti posso dire Se tu non sei l'età Non puoi essere penalmente persa Io fra Non lo sapevo Io l'ho fatto sesso con lei Aveva dodici anni Adesso cosa posso fare io, eh? Mandragola di merda Castiglieco Sei un Castiglieco Te hai testa di cazzo Pecorino sei Sei un pecorino Te fra Sapevo Comunque Taylor Io Tu So che tu hai avuto Tante relazioni con i rapper Io sono un rapper noto di Milano No, basta Ho finito con i rap Allora, sono un cacciatore io Edo, guarda che Non mi sono mai Ah, ah, ah Adesso appunto più Scemo di merda Buio Cioè, buio Buio sei È il cane di Edo Cosa? Cosa? Eh, te la sei persa Niente, è finita Certo cosa ho detto? Certo cosa ho detto? Certo, ok Scusa, c'è Siamo così Siamo fatti così noi E certo, certo Quando vuoi Quando vuoi Tu sei di Roma? Farò guarda che non è un canotto Quello, un cane Ricordatelo Do cazzo vivi? Ma come Roma? Ma si vede che di Milano Ma si vede che di Milano Per forza Sì, si vede Dove fai? Dove sei? Aspetta raga Ma hai fatto la gag Simo Dove sei? Bangladesh Aspetta, rivedete in chat Bangladesh No, perché lui fa la gag a Simo No, io miro a Milano Dove? Milano 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 Ho sentito Milano Ok, Milano Non l'avevo sentito Dopo questa serata Sono friulana comunque Anch'io sono frilano Cosa vuol dire frilano? Venezia Giulia Ah, per se fosse tipo una citazione Friuli Venezia Giulia Sono se una citazione È malissimo No, no, no Ma sono friulana Andiamo a far serata dopo? Dove? Da Boh, dove te? Ma è martedì Oggi ci sarà soltanto Casa mia C'è solo casa mia Stasera per far festa Sapete ragazzi Martedì c'è qui S'è solo All the club The club No, non faccio mai serata A parte di Scalp No 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 Fra sta Non è seria Fra Non è seria Come? Ma non fai mai serata Tu non balli a reggaeton? No Non è reggaeton? Fuori Ma quanti anni avessi? Ma capito Ma non balli a reggaeton Ma come fuori? Ma che cosa dici? Ma non balli a reggaeton No, no, no È andata via È andata via Ma è nero Comunque Comunque No, non ballo Allora Allora ti ballo un pezzo io Eh vai Twerkami un po' Balla per me Vai Io per lei Io per lei Ma ti ho capito per me E te Io non so percare Eh nemmeno io Io sono abituata che gli altri Lo vanno per me Posso dire che vorrei essere sottomizzato da Taylor Mega Si può dire Ok no Beh Sottomizzato si può dire Anche Sottomizzato Vuodere che lo prendi nel culo Comunque Quanti anni avete? No Allora Io sono nel 2000 Lui del 99 E Patrizio del No no Tu invece 2005 Ok è arrivato il momento Mi sto sentendo male Il cane nel pacchetto Questo è il balletto Questo è il jeans Il mio balletto Ah il cane poverino È nel pacchetto Sì Ma cosa sono quei Pancake Sulla pancia Ma tipo il cane Il cane lo usate per la gag Poverino No 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 Non è la gag C'è un cane Cioè di solito rilanciamo No lo usate per la gag No No Io ho una domanda per te Ma Te ho visto che sei pancake Sulla pancia Pancake Spaccano Puoi dare un voto al mio addome 8 Per mezzo Ho fatto malissimo Sentiamo una cosa Pat cos'hai da dire a lei Io Ok Questa facendo Questa facendo Questa facendo Perché c'è Omar Falco che È impazzito Omar tutto ok Ma cosa è successo Scusami Ho fatto un ruttino Ma ti dà fastidio sui ruttano Perché ci stava venendo nello stesso momento Se l'ho detto che ho fatto bene a ruttare Se l'ho detto che ho fatto bene a ruttare Ruttino 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 Comunque E tu Ma vi mette insieme No Sì Ma magari Non viviamo insieme Però ormai stiamo ogni giorno insieme Grazie miller Purtroppo Purtroppo Sì sì Infatti Questo è per esempio L'uomo delle pulizioni Ma perché ho preso un quadro con le tette di fuori No Non so che vorrebbe vederlo È bannabile È bannabile Sì sì No 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 Non si può fare No 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 C'è una carta dietro Eh Se Non ha C'è una carta dietro Eh Ragazzi Il turino si può vedere Non lo so Ma il dubbio Evitiamo di farlo Ma pure Oddio 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 sto ritornando col quadro Comunque pure io c'è un quadro dietro Con Sì è dietro Chi che l'ha filmato dietro? Stai cadendo per ora Ok 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 Grazie mille Joe 08 Comunque pure io c'è un quadro dietro Con un cosiddetto Aspetta che sta ce l'ho un pochino con l'è Martina Ma secondo me ti denuncia quel cane Cosa? Ti denuncia per abuso Ti denuncia per abuso su canini Ti denuncia per abuso su canini Ti denuncia per abuso su canini Siete in grado di farlo? No Non è un brado di reparto Bolutoramente Mi hanno stava morendo Serio Posso fare una panna? Certo Non è un cazzo Va bene Sono sentito benissimo No 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 Taylor Noi ti sentiamo benissimo No 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 cosa allora? Stai dicendo quel quadro lì dietro che hai Di la testa Sì cosa rappresenta? Beh È una foto E chi rappresenta? Però c'è un Lei Ma la posso far vedere? Posso andare lì vicino? Sei nuda? Eh sì ma c'è un Striscio sui capezzoni No loro no 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 Perché quel quadro lì si avviene Il mio no È perché quello si è da qui su 27 No no Da lontano sembra Sembra un punto Da così Sì No no E tu E se fai beatbox? Su Fa beatbox Fai ref No facciamo la sfida Ne fai la sfida vai Se fai beatbox? No Io sono nel gioco Eh la vedete? Ma io non so farlo Tu sai farlo frate O tu che lo sai fare Devi far vedere che sono più bravo degli altri Oh ma lui l'ha fatto bene Allora Dei mettere le macchiettate Quanto scopa Patrizio Morellizio Sentiamo Sespo Sei farlo? No Tocca a me ragazzi O in shot per favore Eh ma lui è forte No te sei bravo Ma vai a fare il culo Allora Ho io una domanda da farvi Bravissima 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 Stai zitto Seduto Facci la domanda per favore Ui ho fatto Allora qualcuno di voi Qualcuno di voi Tra di voi Dai Su Partiamo argomenti interessanti Qualcuno di voi Tra di voi Ha mai scopato Con la stessa persona Nello stesso momento? Guarda Lo dite in maniera delicata Un trisom Sì O anche un quattrisom Non so come Fonsom C'ho cercato molto spesso Tutti Perché stai facendo il cazzo Edo? 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 Edo No 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 Però si può provare No Non l'avete mai fatto No No Ma chiedo perché state sempre insieme Avete detto Ma non siamo sempre insieme Ma hanno occupato casa Ma è occupata Ma è anche Che non venissero questa sera No no ti spiego Quello che scopatifico dentro è lui Quindi se mi chiedete qualcosa Che da lui Ah Eh sembra quello capito più Ma tra l'altro Assomiglia di una persona Che conosco Sì Giaste in dire No Un ragazzo che conoscevo Quando All'adolescente Alla Che che la Simo E l'ha fatta anche oggi Brava Simo Ma che è che la Simo Oh Che sono altre persone Aspetta che Abbiamo Omar Falko Che vuole dire qualcosa di interessante Mi sembra Ma perché Omar ha iniziato Con la bamba Bro Non fa bene Ma che falle Per una volta Sei uscito Guarda È nel Cilin Bro Guardalo Ma questa qua Sono acidi Zia No Non è sotto acidi Nel Cilin No è nel Cilin È nel Cilin Tu avevi fatto Tutti i sostanze Superficenti pesantissime Sì Prevesimo Pure io Io no Cosa Io no Io adoro Cosa Mai quanto me Penso Cosa Cosa Polvere bianca Polvere bianca Polvere da sparo Ma Ma io ci ho scritto Un libro Quindi ne posso parlare È scritto Un libro Posso Su le droghe Sì No sul fatto che mi Su cosa mi sono Cosa mi faceva Su cosa mi facevo Su cosa ho attraversato Che in questo momento Cioè Ti lida o Ma si può dire o non si può dire Sì sì Può dire Stai raccontando la tua storia Allora Sì no Ho avuto un periodo in cui Allora ho fatto di tutto Ma mi state ascoltando? No Se mi ha ascoltato la vostra attenzione Parlo Sì sì No ho avuto un periodo Dei 17 Cioè mi sono fatta di tutto Qualsiasi cosa E dei 17 E 18 Tipo ho cominciato a farmi di rovine in vena Pesante Proprio Pesante Sono una domanda Pesante Poi ne sono uscita da sola E Basta Non ho più toccato Niente Zero Cioè non riesco neanche a fare una canna Questa è curiosità mia Ok Ma Nostra Perché comunque ormai siamo un team Stai zitto Stai zitto È una cosa seria Stai zitto Stai zitto Io ti prendo per i humility Ti uccido di botte Scusa scusa Se è andato via Vai Ma Ora Tu hai scritto un libro su Come Diciamo Cosa provavi Cosa sentivi Di perché lo facevi Con Il tuo rapporto Con le droghe Giusto? Mhm Quella che a te Piaceva di più Tra virgolette È una No no Voglio saperlo Perché è una cosa che voglio sapere Non ho mai Provato più droghe Voglio Saperlo Bene Matti Eh Cosa sto facendo No Io ho una domanda Tuerca A sto punto Tuerca Eh ma non è capace Io ho una domanda seria No no È un tuerca Io ho una domanda seria Se tornassi indietro Se tornassi indietro lo rifaresti Rifaresti tutto Oppure te ne sei tentita No tornassi indietro lo rifarei tutto Perché se ora comunque sono riuscita a costruire qualcosa nella mia vita È anche grazie a quel caso falso che ho fatto Cioè hai imparato dai tuoi tra virgolette posso chiamarli errori no? Sì perché alla fine si dice che quando tocchi il fondo se sei in grado riesci a prendere il fondo Riesci cioè a prendere la terra per poi alla fine fare il balzo L'ho detto di merda Sì sì no Mi puoi Cioè ti dà l'aiuto per toccarlo Cioè toccare il fondo e riuscire a prendere il balzo per poi risalire no? E per fare il salto più in alto Allora la ridico meglio perché questa è bella Perché per lo stesso si mette di mezzo Che per fare un balzo in avanti nella vita devi prima fare due passi indietro Quindi alla fine quella cosa mi è servita perché tipo io mi vedevo talmente Mi facevo talmente tanto schifo che ho fatto di tutto poi per non vedermi così Questa è una cosa seria mi puoi mandare il libro se ce l'hai voglio leggerlo Io leggo veramente i libri non sto scherzando Guarda posso dirti veramente un bel libro Io avrei voluto scrivere molto di più ma non perché è mio Alla fine non vedevano l'ora di criticarmelo Perché ovviamente chi l'ora vedeva che fa un libro a voglia Non vedevano l'ora di scrivere fa schifo E invece alla fine è piaciuto è piaciuto tanto Comunque si chiama La bambina non c'è più Quanto tempo fa è uscito? Quanto? Tempo fa è uscito? Due anni fa, due anni e mezzo fa No niente stavo dicendo che avrei voluto scrivere molto di più Ma volevano farlo uscire a tutti i costi in quel periodo E quindi niente Io avrei voluto che fosse stato un best seller Perché secondo me meritava E non puoi parlare magari dove racconti Dove racconti quello che magari non ti hanno fatto scrivere Perché non hai avuto tempo O cos'è poi successo? Però alla fine sarebbe tipo un Cioè Un aumentare dei capitoli in quel libro Non so come uscirebbe Tipo quello che non ho scritto Ok Ok Vabbè Ma questo è che caso Comunque io sono serio Cioè lo vorrei leggere No ti mando, ti mando il titolo Grazie mille Poi No è bello guarda Il libro sinceramente è uscito bene Sì 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 vabbè Ecco mi sono tornato Scusatemi eh Ero qua fuori chi ti ha scontato io Ma il capitato non ci stavo No più che è che quando Quando parliamo di una cosa Cioè seria Possiamo parlare di strontate adesso vai 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 fai una domanda Appena rientrato Fai la domanda Vai fai una domanda Vai bruciapino Ti posso sfondare il culo Perfetto Minchia così Brava Per tagliare il filo Ma io devo fare beatbox Scusami un attimo Taylor Allora E' so rimasto indietro Faccio beatbox Aspetta Machine John Kelly Vabbè Una delle poche cose che so fare Una delle poche cose che so fare Sono commossa Però però Cosa? Sono commossa Grazie grazie Anch'io Cosa vuol dire? E' stato da animo veramente molto fiero Ma come fare? Se hai tanti anni chiedi Svegliati Porca troia Sto dicendo di piccato Un pezzo di merda Chi di cosa si No Oh ma fai calmo Non fammi il pisciabanane No scusate chat Vi spiego No Te fai palestra vero? Si ho un'applicazione di allenamenti mia Ah come si chiama? Mega fitness Mega fitness Bel nome Io hai fatto anche un film Mega mine Hai capito? No ho fatto un film Ed era Aspetta Ma come vabbè? Per esempio vi sono quelli che sparano Sperano negli alieni Perché ho fatto un cameo in realtà Man in black Man in black International Oh man in black International Man in black Con due Oh Lei hai fatto il tiktok Le hai fatte esplodere Man in black In molti capiali Fetta Dai Ok 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 Comunque se noi potremmo fare delle domande interessanti Si si fatti Sei un coiole No scusami No scusami No no te lo No ma io lo sapevo Perché so che è molto ironica Grazie grazie Che potremmo fare un'altra domanda interessante Profonde Ha detto che sei bello Ma però Mi sta parlando con lui Buttalo via Sto parlando con te Dicevo di merda Con te rossigno Ho io una domanda per te Posso? Rossigno Rossigno vai Non mi spogliare Quando mi spogli tutto Ma senti una cosa Tu sei rosso naturale Sesso di capelli Si 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 Sono rosso Sono rosso naturale Ma anche là sotto Sei rosso No Fammi vedere No 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 Fammi vedere Fammi vedere No 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 C'è una risposta C'è una risposta Io ho il video Io ho il video Io ho il video Ma non balla con i suggerimenti Io non ce ne ho Io sapevo che l'avresti detta Vai Ma fa non ho parlato Dovresti Vai Dovresti vederla Allora Devi scoprirla Se va bene a controllarli te Oh io devo farla pipì Comunque Cosa? Devo andare in bagno Io non ando in bagno Sì devo non farla pipì Fai la pipì mentre sei live No vai Vai in bagno per favore Ammi rispetto dell'ordine Zitto Vai vado Vai 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 in bagno Vai in bagno Ma se diamo quel pensiero Cazzo Ciao Ciao Taylor Ciao 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 Toc toc Nikki Ciao Nikki Sai chi è Taylor Mega? Sì 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 Ciao Piacere Nikki Piacere Taylor Vabbè Eh droga Posso fare una domanda a Nikki? Posso farti una domanda a Nikki? Nooo ma più che dobbiamo sposarci No no Ma solamente Magari dovrei cambiarlo No giuro lo amo Però io tipo ogni volta E' presente quando ti chiedono di mettere le tue iniziali no? Io metto se E poi faccio la gag dicendo favolosa La gente ride E io mi sento così simpatica Allora mi chiamo dappertutto Nikki favolosa Ah non è Ma non è veramente il tuo nome No Nikki io non ho capito bene scusa No non ho capito un cazzo Ma è veramente il tuo cognomo o no? No no Ah che cazzo Potevamo sposarci Ma io tipo Io se era veramente favolosa Mi ero illuminata No ma dai Però farebbe straridere Sarebbe una gris bellissima No perché io conosco una persona Che si chiama bellezza di cognome Vado a sposarmela Sai come mi chiamo di cognome? Increible No ma sono figa Sarà figa? Allora sì Increibile Io sono della Catalogna No figa ci stava Ma quanti figa Nikki passarella E adesso dove l'appoggio? No 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 Giuro su Dio che il rosso Si è buttato dicendo No 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 Ma quanto è figa Nikki passarella Lo giuro su Dio Nikki rossa è innamorato di Ted Lo giuro su Dio Me lo dice da un moto di tempo Sai dito ora sei un bastardo L'hai fatto Ora io dico No 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 Nikki cosa ne pensi Di questa rivelazione Che hai avuto del rosso? Ma no Ma non ce l'ho innamorato di tutti Ma che lui Ma di tutti o di tutte? Oddio Ah è indistinto? Tutte asterisco Tutte Simone No 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 Quello è poco ma sicuro Cosa? Tutti o tutte? Eh non lo so Ma lo so Dobbiamo chiederlo a lui Taylor Taylor Guarda te lo dico io Che ci faccio serata ogni giorno Il rosso se le fa tutte Ma non è vero Ma mi devi? Ma sai cos'è che lui Con sto fare ironico Alla fine C'è alla fine Che scopa di più Boh La mette Nella figa In buca In buca Comunque Taylor Io ti ringrazio per aver partecipato Siamo venuta alle prossime live Se vuoi entrare Sei ben accetta Aspetto il libro No come vaffanculo C'è di merda No dai No non a te Puzzi di merda Poi aspettiamo anche la serata No faccia di merda Non devi fare serata con noi Con me Con lui Dai ragazzi È stato un piacere davvero Ma risposto Ciao Buona serata Divertiti Ciao Ciao Te lo Salutala Grazie Nei tuoi sogni Ci vediamo Nei tuoi sogni No dai Se n'è andata No non se n'è andata Ce l'hai rimossa tu Dai E' rientrata Perché gli mancavi Rossigno gli mancavi Sì è vero Sto male Non ti vedo più Allora Terror Mandami il numero Sì Ha detto dammi il numero Ha detto dammi il numero Non ricordo Tomo Ti ho detto Il tuo Vai 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 Certo meglio Terror Il mio No No il suo Sì Tu 8 Anche il mio 7 più 8 Dai ciao ragazzi Dai se ti piace il rotto Con piacere Questa chat Se sei innamorata puoi rientrare No È uscita Vano Anche il mio Anche con gara